allora buonasera a tutti quanti come avete ben capito anche stasera parleremo di economia e come c'è un caro amico con cui mi sono già incontrato un paio di volte a milano anche col professor aldo giannulli massimo intropido di wall street italia raccontaci un po quello che fai la tua carriera insomma sì allora buonasera buon pomeriggio dipende dai fusi orari da dove ci guardate buona giornata sì con con mirko ci siamo conosciuti un po di tempo fa io ho questa trasmissione su wall street italia sono un analista finanziario indipendente economista o questa con leopoldo gasparro questa trasmissione opening bell che doveva essere un commento di apertura i mercati sul canale di wall street italia si parla di tutto e sono stati invitare da noi parabello un mirko che con le sue notizie anche rispetto al nostro al nostro diciamo ambiente della della finanza e dell'economia è sempre avanti giorni ma giorni ma giorni e rispetto alle alle notizie che poi appaiono anche notizie sulla guerra che appaiono anche poi sui giornali economici e allora mi ha chiesto di partecipare a questa al suo canale oggi sono sono onorato di essere qua e sì wall street italia o un canale o un sito mio da vent'anni più o meno si chiama ricerca finanza www ricerca finanza punto it scrivo libri faccio corsi di finanza faccio analisi indipendenti tutto qua ecco non non ho al momento un engagement diretto col settore bancario finanziario quindi non sono uno di quello di quelli che agisce sui mercati e quindi ai un cuore e questo che vuoi dire si per ora sì per ora sì per ora sì anche se anche se voglio dire fa di tutto per essere messo a dura prova guarda adesso giusto per divagare ma rientriamo subito in argomento tanto comunque è in tema di trasmissione stanno arrivando i risultati trimestrali delle società noi analisti non ci abbiamo capito niente sono nettamente migliori delle aspettative e nonostante la guerra ci sono per esempio i titoli del lusso che fanno profitti record e ovviamente profitti record li sta facendo l'industria del petrolio ma non corriamo tanto e poi giusto per così non non lo dico per attirarmi le simpatie del canale ma lo dico perché è vero da da sempre appassionato di cose militari io partengo alla generazione di caccia ottobre rosso è tutto il materiale sulla seconda guerra mondiale ma poi diciamo il grande il grande evento è stato caccia ottobre rosso con ivan il matto no la rotazione i 360 gradi dei sommergibili russi per vedere se erano se erano seguiti qui tom clancy ecco tom clancy pensa che ho avuto poi partiamo con l'argomento è ma tanto sul tuo canale dire queste cose fa bene e quando sono stato in america alla fine mi sono trovato a parlare di tom clancy e proprio con gli americani sull'aereo per i voli interni chiaramente e loro non capivano com'è che dall'europa ci si possa interessare così tanto non preoccupatevi a noi interessano queste cose e voi fatte le vostre cose fate la vostra aviazione il vostro esercito i vostri marinski a seguirvi poi ci pensiamo sì anch'io sono rimasto affascinato infatti spesso lo cito russano va neanche di corpo senza un piano che poi è un fatto realmente accaduto quello lì non era un sommergibile era cos'era una fregata un caccia per pediniere comunque c'è un ammottinamento vero si è era successo era quello che scappò dalla flotta del baltico che poi venne intercettata comunque tom clancy si rifà sempre a delle storie diciamo vere poi le manipola le le modifiche ma c'era un fondo di verità in realtà tentavano di fare una specie di rivoluzione si dichiararono indipendenti non riuscire non uscire fuori dal baltico è molto male quella storia lì e poi quando ero proprio bambino piccolo piccolo ci fu il mig 25 che disertò e atterrò in giappone e anche lì mi pare che fosse estate perché mi ricordo che c'era mia nonna intorno quando il telegiornale lo disse il pilota era ucraino se ricordo vedi che piove sul bagnato piove sul bagnato allora di cosa parliamo allora cerchiamo di capirci qualcosa su quello che sta succedendo perché ovviamente c'è chi dice che stanno benissimo c'è chi dice che stanno malissimo come al solito la verità sta se non nel mezzo nei numeri diciamo e quindi è di numeri che che vogliamo parlare e tu ci hai preparato queste fantastiche slide che ovviamente lascerò a te il il commentario delle stesse sì allora sono in descrizione e sono nella mia biblioteca quindi potete scaricare il il file e quindi lo potete consultare come al solito il link ovviamente tutto in descrizione anche dove la cartella quindi chi ha ragione chi ha torto ma allora i numeri raccontano un po un'altra storia infatti credo che senza per carità contraddire nessuno degli ospiti che hai avuto proprio questa settimana che tra l'altro ha detto cose su cui sono totalmente d'accordo noi cerchiamo di raccontare un po i fatti che mancano qui dentro no allora cominciamo da chi sono economicamente quei belligeranti allora la russia la russia l'undicesimo paese nel mondo per prodotto interno lordo quindi per produzione annuale di di beni e servizi in alcuni casi lo trovate come dodicesimo in realtà io da qui ho tolto l'unione europea perché ho fatto la classifica guardando i singoli paesi sono i conti due volte quindi undicesimo paese nel mondo ed è un paese che negli ultimi venticinque anni ha quintuplicato la sua crescita più o meno come l'ucraina ecco vedremo tra poco che ucraina e russia hanno più o meno la stessa storia con dimensioni molto diverse in termini di crescita allora che cosa succederà quest'anno secondo guarda le previsioni del fondo monetario internazionale vedi fmi l'abbiamo scritto l'ho scritto lì sotto sono uscite due giorni fa quindi sono freschissime il prodotto interno lordo di quest'anno dovrebbe diminuire del 6 per cento e del 3,5 per cento del 2023 io ti dico a me sembra un po poco è possibile che la russia per via delle sanzioni para di più poi c'è il problema di quel petrolio di quegli altri beni che vanno in cina vanno in india vedremo se saranno contabilizzati poi attenzione anche a che prezzo è perché il prodotto interno lordo sente anche l'andamento dei prezzi undicesimo paese nel mondo il suo prodotto interno lordo è di circa 2 trilioni di dollari scusa 1776 miliardi quindi 1,76 trilioni di dollari l'italia ne fa 2100 la sud corea ne fa 1800 e il canada che sembrerebbe un paese che faccia chissà cosa ne fa 1991 l'america ne fa 23 mila quindi è un paese che vale meno di un decimo dell'america in termini di pil però attenzione vale poco meno dell'italia quindi poi un'economia completamente diversa dall'italia il dato che adesso dobbiamo ricordare è appunto questa quintuplicazione del dividendo negli ultimi cinque anni passiamo all'ucraina va perché sennò poi eccoci qua vedi che più o meno si vedono tra l'altro in alto a sinistra nella preview che il percorso la traiettoria come direbbe dario fabbri che saluto più o meno la stessa cioè sono paesi che escono dalla urs poi csi e piano piano hanno dovuto si sono quasi identici i grafici come trend si poi vabbè nel mio campo se dici che sono identiche le cose lì ti fustigano ma noi parliamo noi ci dobbiamo capire cioè ma questo anche per via dell'interrelazione economica che loro hanno avuto no ma poi partivano anche a livello tecnologico qui ha detto delle cose molto importanti michele boldrin da un livello tecnologico che per quanto riguarda l'industria di consumo era bassissimo cioè loro avevano missili nucleari l'ucraina era una base enorme per i bombardieri anche nucleari a medio raggio quindi l'ucraina era fondamentale proprio anche nella strategia nella grande strategia russa ma i televisori ucraini televisori russi le automobili cioè quando parli di economia civile parli di queste cose qua e la base di partenza era veramente molto bassa non solo non solo ma addirittura si spesero si sono stati spesi soldi per demolire vecchi impianti che non era più conveniente portare avanti cioè l'enel comprò centrali nucleari nell'ex europa dell'est e queste erano centrali che avevano perdite anche di acqua radioattiva e quant'altro quindi la caduta dell'unione sovietica ha lasciato un'economia assolutamente non orientata al mercato e di fatto da da ricostruire perché attenzione nella storica è caduta perché è quasi andata in default cioè non riusciva più a tenere il passo con 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 l'occidente qui non è che è caduta perché è stato un golpe è caduta perché è rimasta retrata economicamente quindi sono paesi che hanno fatto dei grossi passi avanti previsione fondo monetario internazionale sulla caduta del pilo ucraino quest'anno meno 35 per cento io spererei che fosse meno ma temo che sia anche di più attenzione 2022 vuol dire 31 dicembre siamo a fine luglio e qui continuano a bombardare perciò attenzione che quando buttano giù a una fa o anche un deposito di carburante e ti diminuisce il pil e ti diminuisce il capitale quindi il valore di andare a prendere il carburante trasportarlo rischia di essere anche i ponti visto che ora c'è tanto il gioco dei ponti quando cade un'infrastruttura come un ponte l'economia cambia esattamente che dove si colloca al piel l'ucraina come economia al cinquantaquattresimo posto anche lì alcuni 55 ma togliamo l'unione europea se no duplichiamo il conteggio con erano 200 miliardi di dollari sono diventati 150 diventeranno 150 e praticamente era un po meno della grecia fermiamoci sui 200 cioè lasciamo stare adesso che viene bombardata parliamo di prima era un po meno della grecia che aveva 216 miliardi un po più del kazakhistan 191 e un po meno dell'irak 208 la cosa singolare che se tu metti insieme il pil ucraina e quello russo facendo finta no che fossero ancora comunque non superi non superi per esempio il pil italiano questo come pura statistica questo non con questo non voglio dire niente ecco scusa io qui noto una cosa il rapporto pil america russia come abbiamo visto di 10 a 1 no quasi 15 quasi 15 ecco più o meno è lo stesso fra russia e ucraina 10 a 1 no un po meno di 10 1 e lì c'è anche il fatto come fa un paese che ha nove volte il rapporto più di quanto il paese a faticare così tanto è vero che c'è tutto l'occidente dietro ad aiutare ma comunque l'esercito di base che l'ucraina aveva messo su non era così finanziato dall'occidente cioè i fondi sono tutti arrivati con con la guerra prima facevano un po di esercitazioni quindi abbastanza singolare vedere un paese al 54esimo posto che riesce a reggere così bene contro il dicesimo è veramente qualcosa di incredibile e questo va sicuramente a merito degli ucraini e vabbè anche dell'occidente che li sta aiutando vediamo il debito perché c'è stato no è il tema più caldo questo è il debito ucraino allora questa è una è un grafico un po tecnico lo semplificherò nessuno si offenda se lo semplifico sono numeri fanno venire mal di testa anche a me allora il debito ucraino è diviso per scadenze vedete che c'è due fino al 2030 vuol dire queste sono le varie scadenze sono come scambia cambiali che scadono no sono le varie obbligazioni che scadono quindi vedete che per esempio da quest'anno dal 2022 sono in scadenza 7 miliardi poi 6,8 nel 2023 7,4 nel 2024 eccetera 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 vedete che una grossa parte di questo debito vedete i colori guardate la scala sono in mano agli stranieri e molti sono in mano agli occidentali ma questa è una buona notizia per l'ucraina perché si è detto c'è proprio un video di lucio caracciolo no che l'ucraina rischia ed è vero purtroppo rischia il default allora io cito proprio il video di caracciolo dice che lo stesso governo di chiev ricorda che le cassa della repubblica di ucraina necessitano di ogni mese almeno 5 miliardi di dollari avendo entrate fiscali pari quasi a zero e certo si è fermato quasi tutta la produzione le persone sono scappate all'estero molti avranno portato via giustamente un po di soldi quello che sono riusciti e devono farsi finanziare dall'estero e questo significa arrivare forse a 2 miliardi di dollari di aiuti c'è già in attivo il fondo monetario internazionale poi probabilmente arriveranno gli stati uniti e quant'altro restano da coprire circa 3 miliardi di dollari che possono essere prodotti solo dalla banca centrale ucraina e mettendo in gridna che è una valuta che non è proprio tra le più ricercate al mondo quindi tecnicamente l'ucraina è sull'orlo del fallimento dopodiché secondo me in questo momento l'ucraina è il paese più sicuro al mondo per non fallire perché non solo l'occidente darà soldi ma addirittura si sta è stata proposta la cancellazione di una parte del quindi paradossalmente in questo momento il paese è messo peggio finanziariamente ma in prospettiva più blindato di così no no non c'è nessuno perché quando è lo stesso creditore che rinuncia a riscuotere il suo debito quindi questo diciamo quindi tecnicamente è fallito ma non lo è perché comunque a chi deve a chi deve il debito non è fallito perché per essere fallito ci deve essere uno che ufficialmente ti chiede indietro i soldi tu non sei in grado di pagare allora questo signore va da qualcuno che può essere il notaio può essere la centrale rischi in banca se non paghi il mutuo e fa dichiarare ufficialmente il fallimento se non ti chiedono indietro i soldi non sei nemmeno fallito sei semplicemente uno che ha dei debiti che non si sa che fine faranno quindi non non è fallita e non fallirà ecco si sa quanto di questi debiti sono in mano a paesi non occidentali per capire quant'è l'esposizione no ma credo che vedi che circa metà debito in scadenza in mano agli altri gli altri sono per lo più secondo me occidentali guarda tutto lì ma proprio un numero sulla carta del formaggio secondo me almeno un 80 per cento ma attenzione attenzione perché a questo punto la domanda che tu potresti farmi e vabbè e gli altri e gli altri l'occidente potrebbe rinunciare ai suoi e prestare soldi per pagare gli altri ah giusto quindi giustamente gioco delle tre carte no non è il gioco delle tre carte proprio giusta la tua battuta è semplicemente che in questo momento sul piano finanziario l'ucraina riceve supporto perché è inutile che tu gli dai gli aimars e poi la dichiari fallita in qualche tribunale internazionale andiamo a vedere ecco andiamo a vedere questo il dato successivo ecco vedi che il debito ucraino vedi che era già salito prima c'è stato un picco nel 2015 in quel periodo lì c'è stato una state delle interlocuzioni questo termine è stato riportato in moglie in voga dal nostro ex presidente del consiglio giuseppe conte sono state delle interlocuzioni proprio col fondo monetario internazionale perché l'ucraina non se la passava benissimo da un punto di vista finanziario per colpa del suo squilibrio commerciale che vediamo più avanti cioè sostanzialmente perché importava più di quello che esportava oltre che per altri motivi e quindi era già da un po che era in osservazione dal punto di vista finanziario mentre invece se fai vedere il debito russo che la slide dopo in proporzione del pil quindi qui arriviamo al 48,6 in proporzione il debito ucraino in rapporto al pil è un quarto sì un quarto di quello italiano cioè noi abbiamo il 160 per cento di debito pil e il giappone oltre il 200 quindi anche lì era la tendenza del debito ucraino che preoccupava perché stava crescendo guardate cosa hanno fatto Putin, Medvedev, guardate come hanno ridotto il debito loro dal 90 per cento del pil al 18 per cento poi non so se qualche debito non è stato onorato e la cosa non è stata contabilizzata non lo so però uno dei motivi e qui andiamo a vedere come mai tirano fuori i t64 come mai hanno forse ancora i proiettili che ho scritto sopra sa stalina perché loro che cosa hanno fatto dal punto di vista anche delle spese per armamenti hanno fatto la ricerca sui missili personici hanno fatto di tutto per tenere no per cosa sono transonici hanno fatto praticamente hanno investito soprattutto nelle armi a maggior valenza strategica l'obiettivo militare anche in termini geopolitici è stato fa niente se poi sui mezzi di terra abbiamo dei vecchi scassoni eccetera noi dobbiamo puntare soprattutto sulle armi che fanno paura sulle armi per mostrare la bandiera no come faceva una volta la flotta inglese il satan il kinza le cose lì esattamente e però vedi che loro c'è la russia e questa è una cosa che fa un po riflettere stava lavorando per diventare un paese il più simile possibile all'occidente al di là poi della questione geopolitiche non spetta a me approfondire questo però ha fatto un lavoro molto importante sulle sue finanze pubbliche ed è diventata uno stato sostenibile questo naturalmente a scapito dell'esercito chissà se adesso se ne stanno pentendo di aver fatto questa cosa qua però sicuramente prima della guerra la russia era un paese anche abbastanza attrattivo per andarci a investire oltre a essere un grande mercato no e questo ti fa capire molte cose perché adesso sembra che siamo tutti sciocchi ad aver investito così tanto ad aver puntato così tanto sul gas russo ma i dati che vedremo tra poco ci fanno capire che prima di questa cosa della guerra la russia era un paese che faceva gola a molti infatti siamo alle slide che riguardano gli scambi commerciali allora questa è l'ucraina vedi questi sono dati eurostat ufficiali questi sono numeri che ci dà l'unione europea e vedi intanto che l'ucraina ha un saldo negativo commerciale perché l'unione europea esporta più di quello che importa vedete la differenza tra il 2011 a sinistra e il 2021 a destra la listogramma è diviso in maniera molto grossolana in due parti la parte azzurra sono i beni industriali più sofisticati la parte color mattone color rosa sono i beni primari allora vedi che si fa presto i conti l'europa vende soprattutto beni finiti in ucraina automobili televisori quant'altro l'ucraina metà delle sue esportazioni verso l'europa sono i famosi beni materiali gli acidi grano e quant'altro quindi anche proprio come qualità delle esportazioni l'ucraina era un paese che ma ancora fortemente basato sull'economia primaria cioè proprio sui beni sulle materie prime e quindi tecnicamente era era ed è tuttora un paese emergente e ovviamente speriamo che continui a emergere vediamo invece la russia che quella sotto vedi che i rapporti qui cambiano vedi che era la russia esportatore netto la russia ed è il motivo per cui lo stanno la stanno attaccando con le sanzioni perché mentre i flussi di scambio andavano incidere sul debito ucraino la russia che esportava in europa più di quello che importava ed è così anche nel resto del mondo quindi scusa di base il mio intuito è che se uno esportatore netto è più esposto a un alle sanzioni a cose del genere perché è più facile bloccare la tua economia esattamente e questo spiega perché siamo andati giù così duri con con le sport però qual è il problema che se quello sbilancio se quella istogramma di destra lo giri verso cina e india probabilmente non ho anche un'altra cosa da dire su questo per di un po ma non per di tutto quell'istogramma lì quei 158 virgola 5 miliardi sai da cosa sono messi a rischio oltre che dalla sanzioni dalla forza del rublo la banca centrale di russia si è precipitata a abbassare ma a martellate i tassi di interesse perché se non si stava apprezzando troppo il rublo e questa è una cosa che ti dà forza dal punto di vista della tenuta dei conti finanziari nel breve perché ti rende non dico come la svizzera ti rende un paese dove la stessa gente dice beh ma la nostra moneta i stessi russi dicono beh la nostra moneta vale però alla lunga va a eroderti sull'export assieme alle sanzioni e qualche problemino te lo crea anche nei confronti di cina e india no perché anche loro non è che gli sconti li vogliono anche se la tua moneta anche se la tua moneta sale e quindi quindi la russia sta avendo un problema oltre che con le sanzioni con la sua moneta e potrebbe abbassare ancora i tassi di interesse in un momento in cui invece l'occidente li sta alzando per cercare di frenare l'inflazione sostanzialmente perché l'occidente aumenta i tassi di interesse non solo per frenare il commercio con le carte di credito ma soprattutto per costringere i grossi prima di tutto c'è proprio in ordine di tempo per costringere i grossisti delle materie prime a vuotare un po i magazzini perché gli speculatori di materie prime si riempiono i magazzini ma a debito non è che hanno tutti quei soldi no allora la prima cosa che fai cerchi anche di alzare il costo per i colori che fanno incetta di materie prime in maniera che che vadano che vadano vendere ecco c'è da dire questo riguardiamo i due istogrammi vedi anche qua guarda paradossalmente vedi che le importazioni europee rispetto a quelle ucraine sono molto più sbilanciate sulle materie prime vedi che lì c'è la parte rosa che è la stragrande maggioranza proprio sulla destra problema è che quelle materie prime sono l'energia piccolo particolare piccolo tallone d'achille quindi noi siamo andati ad attaccare economicamente uno stato forte quindi uno stato attaccabile ma uno stato la cui forza era dovuta le dall'energia che di cui noi abbiamo così tanto bisogno vedi la bilancia commerciale russa dal 2000 in poi è tutto inattivo cioè si parlava tanto e la cina esporta e rovina le nostre aziende pare che non rovina le aziende perché molte sono aziende occidentali che vanno la produrre tensione è anche uno dei motivi per cui la cina e l'india continuano inquinare così tanto perché una parte delle produzioni sporche andiamo in quei paesi a farle però sono loro che inquinano e certo vado là io in quei paesi va bene se no qua andiamo fuori tema poi ci guarda invece la bilancia commerciale ucraina vedi che ho dovuto metterla riga rossa cioè l'ucraina era talmente debole sul piano industriale che anche esportando le sue preziosissime materie prime non ce la faceva pareggiare i conti non ce la faceva pareggiare i conti quindi anche quei discorsi che si sono fatti e ma la russia invade l'ucraina perché smette le mani sulle sue aziende forse più sulle materie prime che sulle aziende perché vedi che il tessuto industriale ucraino non riusciva a tenere in equilibrio i conti cioè assomigliava assomiglia molto ad un paese emergente ma di quelli quasi africani adesso non vorrei far arrabbiare nessuno sai poi quando tocchi il tema africa mica africa ma comunque è un'economia è proprio anche come qualità della produzione che non era ancora in una vera fase di maturità industriale capisci quindi il discorso ha invaso l'ucraina perché voleva le sue industrie no ha invaso l'ucraina perché voleva le sue materie prime non lo so ma già sta più in piedi sì da quello che avevo visto io ti ricordi i grafici dove si fanno vedere i depositi dei gas i depositi di terre rare e quelle cose di lì il secondo me il pericolo era un più un pericolo allo alla lontana nel senso che se uno andava a vedere chi aveva vinto gli appalti nel 2014 la shell e altri i russi potevano probabilmente identificare il pericolo che un'ucraina che avesse ricevuto un know how è un'industrializzazione in un certo livello l'avrebbe potuta far crescere e se cresce quello cresce anche l'esercito questo potrebbe aver accelerato anche la decisione di intervenire prima che l'ucraina si rinforzasse troppo e se abbiamo visto nei calcoli russi vedendo l'andamento della guerra beh hanno aspettato anche troppo perché se avessero aspettato ancora di più l'ucraina probabilmente li avrebbe fermati fin dall'inizio non ci sarebbe nemmeno stata un'invasione così chiara quasi fino a chi per quanto poi sia finita male io poi guardando sto cercando di trovare uno che che si intende proprio di queste cose un geologo qualcuno che si intende di prospezioni di questo tipo perché interessante vedere tutti i giacimenti che ci sono soprattutto nel donbass nel donbass io l'ho fatto vedere in un altro video messo tutti i link sotto perché la zona più ricca dal punto di vista di materie grezze è la crimea e il donbass poi sì ci sono anche dei giacimenti ma quelli sono da completamente dalla parte apposta sono praticamente vicino leopoli nella zona della galizia però se uno va a vedere il 70 per cento delle risorse naturali neodinium cadmio e cose del genere gas di scisto è tutto nel donbass guarda caso dove si sta combattendo proprio fra kramators sloviansk lisi chance donnez qual è la zona più sfruttabile soprattutto per un paese come la russia che importa queste cose infatti io stavo guardando un pochino anche il mercato del neodinium che la russia è il 90 importatore al 90 per cento infatti primi appena era scoppiata la guerra anche lo stato americano aveva detto ai produttori di chip questo poi un discorso che approfondiremo domenica con marco bussi perché ci occuperemo proprio i semi con i chip devi pensare ai df 21 non dico altro ne ragioniamo con con marco perché ovviamente tutti questi ragionamenti sono a sfondo bellico ovviamente che questo canale si occupa di queste cose per capire se i claim della russia di produrre i t72 bm1s cioè i white eagle sia fattibile o se è propaganda perché se non hanno una fornitura alternativa di chip per quel particolare modello che è molto tecnologico alla visione termica indipendente per il capocarro e cose del genere da dove lo tirano cioè da dove viene questa catena produttiva è un qualcosa che i cinesi li possono fornire o è un qualcosa di autoctono scusa in questo una visione un po un po mediano nel senso c'è chi dice non sono in grado di produrre nulla e c'è chi dice che producono benissimo non è vero non è vero non è vero allora l'idea che mi sono fatto io da economista l'esperto militare sei tu facendo proprio vedere prima come sono riusciti a sanare i conti poi non so se hanno pagato tutto non lo so ma secondo me invece di tecnologia in russia ce n'è come tant'è che loro i soldi li hanno spesi sulle armi da bandiera sulle armi da parata capito perché hanno fatto comunque i missili e ogni tanto mandavano i tupole 160 e blackjack che sono la coppia russa del del b1 per capirci a andare in alaska rompere le scatole poi ogni tanto vanno a spiare le basi militari sai cos'è massimo è che tutte le volte che hanno presentato queste nuove armi il satan eccetera hanno sempre specificato che tutti i componenti sono stati prodotti in russia appunto questa è una cosa pianificata in dieci anni in venti anni non è una cosa non è che improvvisamente scoppia la guerra e loro dicono no tranquilli è tutto fatto in maniera autoctona questa è una deliberata scelta produttiva fatta negli anni e per questo che il discorso non hanno i cipi non sono in grado di produrre mi sembra strano che siano così scellerati non aver messo in conto che in caso di guerra avrebbero avuto grossi problemi di importazione di questo genere di cose no 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 guarda dai dati che vediamo è stata proprio si capisce che la tecnologia c'è e tra l'altro sono loro che riforniscono regolarmente la stazione spaziale la isss vanno sulle loro capsule fino al 2024 hanno detto e poi scade il contratto e poi c'è lo sfratto no però secondo me se vedi anche i dati economici loro la tecnologia ce l'hanno e hanno scelto di puntare sulle armi per far più paura per avere più che proprio da mostrare da mostrare non usare no e poi però paradossalmente sono rimasti indietro coi carri coi trasporti truppe con queste cose qui lasciamo stare la marina russa ma lì un discorso lunghissimo quello è quello il dollaro rublo quel per loro ha sempre avuto scopo difensivo e di disturbo dei traffici una strategia simile a quella tedesca nella seconda guerra mondiale no soprattutto sommergibili e poche unità di superficie ma loro hanno scelto di non spendere troppo cioè di spendere il minimo necessario per perseguire una politica di potenza e forse per questo che loro all'inizio hanno puntato sull'invasione ucraina per cercare una roba tipo nicaragua no molto in grande stile no perché caspita se poi questi resistono noi abbiamo sì i missili transonici ma 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 poi se siamo senza carri armati per per andare in una guerra di attrito guerra di attrito che però sembrano aver scelto no l'hai spiegato tu nei tuoi video quindi i piani iniziali sono compatibili con questi grafici economici che abbiamo fatto vedere ecco spiegaci un po' l'andamento del rublo perché noi si sa tre quattro mesi fa si diceva che vanno in the full economic rublo sta precipitando e cose del genere ora stiamo vedendo quando all'inizio della guerra ed è stato probabilmente allora intanto grafica spiegaci le contromosse esatto allora intanto grafico si legge al contrario cioè quel numero che vedete 59 quasi 60 o 10 o 60 rubli per fare un dollaro quindi quando sale vuol dire che ci vogliono più rubli per fare un dollaro quindi che il due il rublo si deprezza e quando scende i contrari allora nella fase iniziale quando si è passati dall'esercitazione all'attacco secondo me sono stati soprattutto venduti rubli dagli stranieri chi poteva vendere rubli li ha venduti a proprio per paura che fossero confermo per amicizie personali che appena scoppiata la guerra amici sono andati in banca hanno venduto il rublo e ci hanno perso tantissimo io gli ho detto guarda pazienta sarebbe meglio invece ci hanno perso parecchio esatto poi invece il rublo si è riprezzato per la mossa che tutti diciamo di putin ma attenzione potrebbe essere stata la elvira naviullina che è la governatrice della banca di russia perché poi tutto finisce su putin e zelensky ma queste persone dietro non ho staff io conosco da tempo la elvira naviullina e ti assicuro che è una che non ha niente da anzi è persino più brava dei banchieri occidentali appunto perché ha un capo che è un po problematico quindi per tenere i piccoli lei l'elvira naviullina lì è praticamente hanno detto vabbè allora ci pagate il petrolio in rubli e tutti a comprare rubli e vedi che attenzione tutti a comprare rubli non sappiamo quanti rubli sono stati comprati in occidente probabilmente il resto del mondo che sta comprando rubli cioè il famoso blocco india cina e quant'altro e vedi che il rublo è addirittura salito quindi nel grafico sceso sotto i livelli sotto i livelli anteguerra adesso sta tornando indietro vedi che dal picco di luglio sta tornando indietro quindi si sta deprezzando è sempre elvira naviullina che a martellate lo fa scendere se no va a rovinare quel saldo positivo della bilancia commerciale che è quello che tiene in piedi le finanze russe quindi adesso sono loro i stessi russi che stanno indebolendo rublo la facciamola vedere sta signora se la trovi su google falla vedere l'elvira naviullina perché ha proprio l'aria della prima della classe tra l'altro si diceva no tra le varie fake news che sono arrivati in occidente no ma in disaccordo con putin magari sarà anche in disaccordo ma sta facendo sta lavorando benissimo e sta lavorando benissimo l'elvira naviullina adesso arriva ha proprio l'aria della prima della classe eccola è proprio la professoressa di matematica del liceo proprio vedi anche il fisic durol questa signora a me ricorda un po la gelminia non dico niente questa signora in questo momento secondo me è il banchiere centrale sta facendo il miglior lavoro al mondo e non c'entra niente con putin anzi putin è il suo problema beh se nel tuo curriculum puoi mettere ho gestito putin tappeti rossi sì sì prima sbirciando nella chat ho visto una domanda di un di un nostro telespettatore che diceva ma se le sanzioni colpiscono i russi come fa la gente che già a un decimo del pil e proprio perché sono abituati ad avere meno dell'occidente qui ci so c'è tutto quello che hai spiegato tu che i russi sanno resistere difficoltà che nella seconda guerra mondiale nello zaino trovano solo la lattuga marcia è un famoso discorso che molti che si occupano di strategia militare fanno nel senso che i paesi che hanno uno stile di vita più basso sono anche più facili da gestire in situazioni di guerra hai meno da toglierli meno da perdere e quindi lì c'è il paradosso del fatto anche la tecnologia una tecnologia elevatissima in una guerra d'attrito tende a decadere molto velocemente ed è difficile da mantenere a livello perfetto quindi non sempre la tecnologia elevatissima è un vantaggio a meno che tu non vinci molto velocemente gli americani negli ultimi trent'anni hanno fatto guerre dove la loro tecnologia gli ha consentito di chiudere diciamo la guerra convenzionale nel giro di un mese e quindi la tecnologia ha avuto un peso altissimo ma non si sono mai scontrati con eserciti convenzionali più o meno di pari capacità diciamo fare mir con un esempio molto banale supponi che per disgrazia ci tirino via tutta l'elettricità tutto il gas e tutti i pannelli solari noi non abbiamo abbastanza stufe a legna carbone a quello che vuoi per scaldarsi quest'inverno mentre penso che sì anche i russi probabilmente non hanno abbastanza stufe ma sicuramente il rapporto stufe abitanti per fare sono anche più preparati e alfredo lasciamo perdere le cose tipiche classiche però nel senso li dipendono anche nelle zone più rurali della russia dalla legna non so quanti noi in italia ancora utilizziamo legna o pellet o cose del genere quindi ci sono anche questi fattori qui c'è anche un discorso di noi noi già ora utilizzerò delle terminologie un po' bastarde noi già ci rogniamo se dobbiamo abbassare il termostato di un grado i russi c'è un grado non li cambia nulla è tutto un altro mondo è più difficile quindi in in situazione di guerra un popolo più ruvido sicuramente si adatta meglio lo stesso vale per gli ucraini eh gli ucraini sono duri come la roccia esattamente come russi proprio perché adesso anche di più tra l'altro vedo che abbiamo scatenato un caso in chat perché c'è chi dice che gli ricorda una professoressa c'è chi dice che appunto lei aveva minacciato le le dimissioni non so se magari viene trattenuta forzosamente per per spirito dello stato però da come lavora sicuramente il suo lavoro lo sta facendo con lealtà poi non so se è una lealtà da minaccia neanche tanto velata comunque le dimissioni le dimissioni accettate sono state una fake news perché ancora lì hai spento il microfono sì sì ti volevo far vedere questo report così poi tu lo commenti questo report della crea che fa vedere gli importatori di fossili dalla russia per far vedere eh le dipendenze no quindi c'è Giappone Olanda e cose del genere eh anche questo documento ovviamente è in è in descrizione ed è in in libreria perché è interessante vedere qui dice eh l'esportazione di energia ehm cioè i guadagni dell'esportazione di energia russa eh sono caduti da marzo ma rimangono comunque ehm a un record comunque eh in parte stanno eh siccome anche loro ha visto stanno chiudendo ma piano piano non è che chiudono di botto quello che chiudono da noi lo riaprono dall'altra parte eh come abbiamo visto no? Sì 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 ma infatti uno dei rischi dell'Occidente infatti qui dice scusa il volume no è caduto in maniera modesta da maggio circa il quindici per cento comparato con lo stesso periodo prima dell'invasione no? E quel quindici per cento in questo momento viene coperto poi lo vedremo con altri documenti di Bloomberg eccetera dall'aumento eh di Russia e di India per esempio l'India ha aumentato in alcuni casi del cinquecento per cento in alcuni casi addirittura fino al mille trecento per cento e questo lo abbiamo già detto nel canale è un modo soft di aiutare a aiutare la Russia senza doverli mandare diciamo equipaggiamento eh militare. Poi non è detto che una parte di questa energia che questi paesi o chiamiamoli orientali o non occidentali perché poi devi mettere dentro anche il Sud America non è detto che una parte di quel petrolio lì e di quel gas lì poi non venga rivenduto all'Occidente sotto un'altra bandiera eh perché questo è un grosso problema l'hanno scritto anche tutti i giornali e non solo e non solo quelli italiani però questo dice azienda azienda che ha la sede in India compra dall'India poi rivende all'Europa sì sì ci possono essere anche queste furbate. Sì sì perché c'erano violazioni palesi dell'embargo per esempio contro la Corea del Nord no? Su alcuni beni chi li riforniva? La Cina chi vuoi che li rifornisca? Per esempio qui dice China overtook Germany as the largest importer cioè la la Cina ha preso il ruolo di maggiore importatore di volumi eh di eh energia da parte della della Russia e anche l'India qua si può vedere l'India come ha aumentato guardate la proporzione eh quello è crude oil quindi greggio praticamente si può vedere l'India da maggio eh tra febbraio marzo e maggio ha aumentato del mille trecento per cento l'importazione di eh greggio eh per la Russia quindi qui si vede i grafici negativi che vanno verso sinistra cioè quelli che stanno calando Polonia eh Europa Turchia Spagna Italia come si può vedere e qui si vede invece quelli che stanno aumentando si vede anche in un certo senso gli allineamenti no? si vede l'Europa da una parte India, Cina eh Emirati Arabi Uniti eh dall'altra. Volevo rispondere al volo fare l'unico accenno a mh alla borsa sempre in chat ho visto mi chiedevano come è variata l'esposizione delle aziende mi parla delle banche italiane in Russia e quant'altro allora mh Unicredit ha ridotto la sua esposizione lo lo leggete non serve comprare il giornale lo trovate online ma volevo dire un'altra cosa guardate che molte aziende che hanno ceduto le loro aziende occidentali che hanno ceduto le loro controparti in Russia hanno in mano l'opzione di riacquisto e sono opzioni che scadono tra i quattro e i sei anni quindi si ha comunque un'idea a livello economico di quale può essere lo scenario peggiore perché tu l'opzione te la fai no? Sul periodo massimo che pensi che che duri che duri la guerra quindi eh per rispondere a quel telespettatore guardate che alcune vendite sono vendite con patto di riacquisto eh perché la Russia l'avete visto dai numeri è un mercato troppo importante capite ma questo non vuol dire tifare per la Russia domani c'è un colpo di stato arriva uno ferma la guerra restituisce tutto all'Ucraina vedi come si buttano gli occidentali a tornare là spieghiamo il meccanismo non facciamo il tifo sì noi questi non sono cifre nostre sono cifre dei più grandi enti che si occupano di queste cose e semplicemente eh li commentiamo ve li esponiamo poi ognuno si faccia la sua eh idea non sono dibattibili cioè non è che sono cifre nostre sono cifre fatte anche da quelli che tra virgolette dovrebbero essere i nemici del ehm della Russia quindi che avrebbero anche intenzione magari a dipingere la cosa molto peggio di quello che è noi diamo le informazioni perché la gente capisca che e perché possa magari immaginare un po' come non dico come può andare a finire perché non lo sanno nei russi negli ucraini ma perlomeno come sono messi i pesi no pesi e contrappesi cioè lo scopo di questa puntata è questo come di tutto il lavoro che fai tu sì cioè per far capire che non è così bianco e nero non è che la Russia fallisce perché gli fanno delle sanzioni è un gran caos e i giochi sono aperti cioè allora chi avrebbe mai detto che il rublo si sarebbe apprezzato così tanto chi avrebbe detto che la banca centrale deve intervenire per indebolire il rublo banca centrale russa nessuno da noi nel nostro campo non ha scritto nessuno qui come si può vedere c'è l'accordo trentennale per il gas con una nuova pipeline fallato a notare che commerceranno in euro non in in dollari che comunque noi abbiamo raccontato l'altra volta anche con Dario Fabri ma anche con Michele il discorso del fatto che gli americani avendo sequestrato i fondi il war chest come è stato chiamato eh dei fondi diciamo russi eh in giro eh probabilmente ha accelerato il processo di dedolarizzazione perché ora eh 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 ma c'è un altro rischio le riserve valutare dei paesi per motivi di sicurezza non sono tenute tutte nel paese di proprietà sono un po in giro lo stesso oro è custodito nei forzieri di varie banche diversificare il portafoglio il rischio diciamo sì no ma quella cosa lì nasce proprio per motivi di guerra nucleare no perché vi ricordate il film di James Bond Goldfinger lui era il primo compratore di oro privato al mondo se rendeva radioattivo l'oro di Rock Knox sarebbe stato lui il primo possessore di oro al mondo no perfetto però noi adesso che abbiamo bloccato le riserve eh della Russia e non è che ci siamo fatti una bella pubblicità come cavo per le riserve valutari di altri paesi che un domani potrebbero avere delle contese nei nostri confronti quindi anche qui non è che stiamo dicendo che siamo dei malvagi stiamo dicendo che questa cosa qui in futuro potrebbe avere un costo e poi c'è un altro problema importante perché non è solo la dello de dollarizzazione se il rublo e lo one diventano eh ehm le valute utilizzate in maniera forte assieme al dollaro per le materie prime si corre il rischio che tanto meno il dollaro viene utilizzato per scambiare le materie prime e tanto meno il dollaro non è più convertibile niente perché l'oro il dollaro non è più convertibile in oro da 71 e rischi che di là ai rublo e one e anche rupia indiana che non è che sono convertibili materie prime cioè tu non è che entri in una banca e dici mi cambi queste rupie in un bidone di petrolio ma certamente hanno un valore che rispecchiano e l'altra parte della moneta rispetto alle materie prime se tu dedollarizzi le materie prime e hai una valuta inconvertibile perdi quella forza che prima avevi nei confronti di queste valute qua io qui di sfondo faccio vedere come eh queste sarebbero le nuove pipeline fatte con la Cina sono dieci miliardi di metri cubi di gas per dire solo l'Italia ne importa 30 eh se non sbaglio se ne fanno bene 26 30 una roba di genere quindi per far capire che comunque aprire un nuovo mercato richiede anni e anni e anni questa addirittura in due tre anni cioè prima che la Cina l'India e gli altri siano in grado di assorbire quello che era il mercato europeo probabilmente ci vorrà un decennio e devono tirare su un sacco di pipeline poi come si può notare la pipeline che passa dalla Siberia deve fare un gran bel giro perché ci sono le catene montuose quindi non è nemmeno facile fare tutta eh la pipeline in in quel senso lì e poi costa e poi costa perché mantenere la pressione in una pipeline ci vogliono tanti più compressori quanto più lunga la pipeline e lì si vede la dipendenza delle turbine eh canadesi eh esatto queste cose qui quindi si capisce perché la Russia ogni tanto un pochino stringe il rubinetto per vedere anche un po' la reazione dall'altra parte e anche un po' perché non non lo può chiudere completamente ma da mano che chiude qui deve riaprire di là questo è un processo decennale questo vuol dire che in quel decennio che loro ci metteranno per sostituire i suoi compratori comunque avrà un calo quindi i cali si vedono in periodi lunghi non lo vedremo in sei mesi non lo vedremo ci vorranno tanti anni ma infatti Mirko visto che seguendo il tuo canale eh che arriva nettamente prima rispetto all'informazione mainstream mi sembra di capire che voluto o non voluto la situazione militare in stallo sai che a me come economista è lo stallo la la cosa che mi fa più paura perché se questi passano un anno due anni a andare avanti dieci chilometri sì poi li riperdono poi qui cioè noi abbiamo le sanzioni in ballo i prezzi del gas e del petrolio il turbina del nostro in che un giorno funziona un giorno no eh quindi anche lo stallo che uno dire potrebbe pensare no beh vabbè non fanno più niente e non fanno più niente ma intanto c'è un paese invaso che non riesce a esportare materie prime agricole ai mercati dell'energia in tensione quindi attenzione perché anche lo stallo per noi occidentali un po' per tutto il mondo è comunque uno scenario anche per quel discorso del falimento dell'Ucraina nel senso che non falisce in quanto noi non vogliamo rientrare dei dei debiti ma anche perché gli diamo soldi quindi per il russia può può essere anche una diciamo un punto di leva nel senso noi teniamo questa guerra frozen voi dovete continuare a sborsare per tenere l'Ucraina quanto resisterete a fare questa cosa in per carità ci resistiamo all'infinito ma non è un problema di soldi è un problema di opinione pubblica perché i russi poi sappiamo come lavorano all'interno guardate lo scandalo che sta emergendo ora in Italia pare che la Lega abbia fatto cadere il governo dopo essersi messi d'accordo con i russi allegedly eh cioè pare eh almeno questo è quello lo scandalo le ultime notizie di oggi in realtà è un po' diversa la storia non è per ti fare per la Lega figurati è semplicemente che siamo in campagna elettorale quindi se c'è dieci verrà ingigantito a mille ah sì quello ovviamente l'età che va subito a chiedere chi arrivi ovviamente tutti ora ci marciano però noi sappiamo come lavorano i russi cioè anche nei piani dell'intelligence russa quelli che sono usciti fuori anche negli attacchi hacking infatti tra il 2014 e oggi c'è molto eh a riguardo del cambiare l'opinione pubblica occidentale non non perché è insostenibile per noi mantenere l'Ucraina ma perché la gente dice ma perché noi dobbiamo dare 30 miliardi guarda che tutti i paesi dell'Occidente hanno una branca dei servizi segreti che studia se le acquisizioni straniere delle loro aziende sono pericolose o no per lo Stato cioè c'è una parte dei servizi segreti che fa mercato finanza e borsa eh quindi per dire gli attacchi hacking russi puntano molto su questo qui fa parte della guerra ibrida cioè cambiare l'opinione pubblica andare ovviamente già verso quei settori che comunque sono diciamo amicali amichevoli rispetto alla Russia per ragioni varie non stiamo qui a vedere il perché ehm e quindi cercare di far cambiare l'opinione l'Italia è un paese plasticamente ideale per fare questo genere di cose visto che per esempio già la maggioranza delle persone non è incline a mandare armamenti all'Ucraina e questo è il dibattito che c'era diciamo più grosso in Italia negli ultimi quattro mesi. Ma su quello se posso interromperti io credo che sia un problema di comunicazione su cui Putin ha puntato molto cioè tutto il mondo occidentale è uscito esasperato e purtroppo non è ancora finita dal covid. Cosa è successo in termini di comunicazione? Che gli stati hanno fatto una forte pressione su delle ipotesi scientifiche che poi non tutte si sono rivelate azzeccate. Quindi quando adesso arriva uno e dice abbiamo visto che numeri aiutate l'Ucraina perché ce n'è oggettivamente bisogno la gente dice ecco è la solita cosa che ci dicono che serve e poi non serve capisci? A me sta storia del filo Putin cioè uno che ti fa aumentare la bolletta della luce così come si fa a essere filo Putin. Abbiamo visto che c'è una debolezza di fondo dell'Ucraina per cui non è solo una scelta ideologica a aiutare l'Ucraina. È anche un mercato dove noi vendiamo più di quello che compriamo. Quindi alla lunga addirittura si stanno già dividendo non dico gli appalti ma le zone di lavoro per le imprese edili che ricostruiranno l'Ucraina. Capisci? Il punto è un altro. Il punto secondo me è che molta gente viene la gente scettica sul mandare le armi viene presa per filo russa quando invece è scettica sulla qualità della comunicazione. Cioè ha paura che non serva. Magari è uno che non vuole mandare le armi e dice facciamo la no-fly zone. Poi magari si rischia la guerra nucleare di teatro per dire. Quindi anche lì è la solita generalizzazione. Come funziona la comunicazione? Se tu ti preoccupi delle pensioni della gente sei populista. Se non ti piace che l'Europa ti misuri la lunghezza delle cozze pescabili se sei un sovranista. No non è così. La società è complessa capisci? E questa propaganda giusta a sostegno dell'Ucraina arriva in un momento in cui la propaganda di stato un po' in tutto l'Occidente di stato dei media e quant'altro no? E ha perso un pezzo importante di credibilità. non so tu come la pensi. Allora io l'ho visto cioè la propaganda occidentale fa male anche all'Occidente perché quando racconti le balle di putti malato, sciogu colpo di stato, sciogu morto, sciogu ferito e così a un certo punto la gente non crede più a nulla di quello che dice il famoso discorso al lupo al lupo. Qui mi chiedono quanto è aggiornata la mappa? Aggiornata ieri. Stamattina ci lavorano. Ormai tutti i giorni c'è una persona dedicata che fa gli aggiornamenti. Visto che siamo in finale, te parlavi di stallo. Non sta succedendo granché. Ci sono un po' di spinte, un po' di bombardamenti russi a Soledar, a Bakhmut, un po' da tutte le parti ma non sta succedendo niente. Anche il famoso accerchiamento del battaglione russo dalle parti di Kherson alla fine mi posso dire che è una bufala perché se fosse successo è una settimana che se ne parla, sarebbero già usciti i video ucraini e non è stato così. L'attacco ucraino al ponte Antonovsky aveva senso, io lo dico da mesi, cioè la teoria del buttate giù quei maledetti ponti, fate una vera offensiva, buttate fuori i russi da Kherson e poi spostate tutto dall'altra parte perché tenere la linea del Dnieper senza ponti è abbastanza facile, già dicevo all'epoca. Ora l'offensiva che tanto viene paventata in giro mi sembra un'impossibilità tecnica, sia perché gli stessi ucraini ti mandano dei messaggi che vanno a confermare la cosa. Il milione di uomini è un sintomo di debolezza. Se dici che devi tirare su un milione di uomini significa che non hai un esercito adesso pronto per fare quell'offensiva. Dipende tutto dagli occidentali, come sappiamo, gli aiuti zoppi di Biden con gli Heimers senza i missili da 500 km, gli M777 senza le stazioni digitali di tiro, poi cambiano idea tipo due settimane fa, tre settimane fa finalmente gliel'hanno mandate. Io dico sì, gliel'hanno mandate quando ne hanno perse il 50-60%, quando non fa più quella differenza che avrebbe potuto fare all'inizio, quando avevano tutte le batterie integre. Tra l'altro mi devo togliere anche qualche sassolino della scarpa e concedimelo, perché quando io feci il video degli Heimers c'era un sacco di gente che mi contava, ah non è vero che gli ucraini devono sparare una salva e poi nascondersi. Questa cosa veniva detta dal generale brigadiere che si occupa della logistica ucraina, Karpenko, veniva ripresa dal colonnello Meissner della Bundeswehr, che fa degli ottimi reportage, e ultimamente è stata ripresa pari pari, identica da Tom Cooper, che è molto filo ucraino, e se voi leggete uno dei suoi ultimi reportage, è identico, preciso a quello che io ho detto due settimane fa nel video sugli Heimers, che gli ucraini hanno questo problema, dove soprattutto con quel genere di artiglieria, non gli Heimers, gli Heimers sono fatti per sparare e spostarsi, ma le artiglierie classiche hanno bisogno di un periodo di apprestamento, vanno piazzate e quindi se tu spari e dopo 40 secondi, un minuto e mezzo, i russi ti sparano indietro e tu le perdi, e loro hanno il problema che devono mandarle in Polonia per essere riparate, quanto puoi continuare con un andamento del genere. Quindi quello che deve cambiare in questa fase di stallo è che gli occidentali devono mandare molto più equipaggiamento, tutto insieme, perché gli ucraini hanno bisogno di formare una riserva strategica, perché è così che si formano le offensive. Anche i treni che si sono visti, cioè quel famoso treno con un po' di T-64 Bulat, passa da Kiev e va verso Poltava, non va verso Kherson. Al contrario, in questo periodo si vedono russi che spostano tanti treni, che passano dallo stretto di Kerch, dal ponte, e vanno verso zona Kherson e Zaporizia. Ovviamente si stanno preparando all'eventuale controoffensiva, che io non credo che la faranno adesso, perché secondo me adesso non hanno né i uomini, né i mezzi, né gli ufficiali. È una cosa che monterà. Il problema è che anche i russi, dall'altra parte, hanno una fase di stop e quindi si preparano anche loro. Quindi o i russi si preparano ad assorbire una controoffensiva ucraina o agiscono prima, cioè fai un'offensiva ancora prima dell'avversario in modo da praticamente smantellare le sue possibilità di farla. Quindi in questo periodo diciamo la situazione è questa, è tutto molto fermo, molto di stallo, perché entrambi sono in una fase, sono esausti. Entrambi. Cioè se Sparta non ride, Atene sicuramente... Atene piange e Sparta non ride, sì. Lo confermano anche i dati che abbiamo fatto vedere, cioè la Russia avrebbe potuto avere molti più T-72, T-80, l'esperto sei tu, io sono rimasto ai tempi di Tim Yankee, si parla degli anni 80. Stavano entrando in servizio i Bradley, lei, che stavano sostituendo gli M113, quindi io sono un po' datato. Però loro, per un po' di anni la guerra non era la loro opzione numero uno, era far paura, era dire ci siamo anche noi a livello di superpotenze, ma non hanno mai investito seriamente nel fare il grande esercito. E il fatto che per ora gli Stati Uniti non gli diano gli Heimars quelli lunghi, quelli che possono colpire la Russia, è proprio perché se poi gli ucraini si mettono a bombardare la Russia seriamente, Putin può fare la chiamata generale alle armi senza perdere la faccia. Lui perché non fa la chiamata generale? Perché la chiama ancora operazione speciale. Ma se fai la chiamata generale alle armi, ammetti che la Russia è in pericolo o che gli interessi russi sono drammaticamente in pericolo. Allora vuol dire che l'operazione speciale ti è scappata di mano. Se tu fai una cosa dove vai a colpire dei civili, dei beni di prestigio, allora tu puoi dire che per colpa degli americani la Russia è in pericolo, puoi fare la chiamata generale alle armi senza perdere la faccia. Quindi gli americani secondo me sono molto preoccupati di questo e credo che siano anche molto preoccupati di come gli ucraini utilizzino le armi più sofisticate. Parere mio personale, l'esperto sei tu. Sai c'è la paura dell'escalation, quello ho notato, la paura più grossa è proprio quella. L'escalation per fare le cose che potrebbero colpire a livello strategico i russi, soprattutto per quanto riguarda il ponte sullo stretto. Cioè gli americani hanno paura che gli ucraini se le danno la possibilità di distruggere quel ponte, lo fanno. Giustamente perché dal punto di vista strategico distruggere il ponte di Kerch, distruggerebbe la logistica russa per quanto riguarda il fronte sud, perché allora i russi sarebbero costretti a utilizzare la famosa ferrovia che passa lungo la costa, che è tutta a tiro degli Aymars. Avrebbe un senso enorme distruggere il ponte di Kerch, solo che porterebbe a una escalation tale dove magari i russi veramente ti rispondono con una nucleare tattica. Quindi c'è questo aiuto un po' mezzo e mezzo che però non dà delle grandi possibilità strategiche all'Ucraina di sfruttare questo armamento tecnologico che è chiaramente superiore all'ISMER, cioè quello che utilizzano i russi. È tutta una questione politica più che militare, cioè manca la volontà politica in questo momento. E io ho paura, lo sapete io non tifo né Ucraina né Russia, io semplicemente mi limito a raccontare quello che succede, ovviamente diciamo che indicativamente mi sento più dalla parte dell'aggredito che non dell'aggressore, almeno a livello morale. Poi a livello di quello che racconto io cerco di raccontare tutto senza partigianeria. io ho paura che col tempo, soprattutto con l'opinione pubblica occidentale, lo vedo l'Italia può essere la cartina del tornasole, la guerra stufa e poi ci si scorda degli ucraini, perché quando si arriva all'inverno e ognuno dovrà pensare per se stesso, tutti si scorderanno. è quello che fa paura a me, questi sono in stallo, noi facciamo un inverno pessimo perché bisogna razionare l'energia, come ne usciamo a livello di consenso politico da questa cosa l'anno prossimo se bisognerà dare altri soldi, altri armamenti? Che poi la cosa paradossale Mirko è che soprattutto noi in Europa, paesi come l'Italia che hanno un alto debito pubblico, tu ti devi indebitare di più per comprare le armi da dare agli ucraini, poi rischi che l'Europa ti fa il richiamo per il debito eccessivo, chiaramente non succede perché tu puoi chiedere all'Europa che dal nuovo debito ti scomputino la parte che è speso per gli ucraini, cioè non sono stupidi, però paradossalmente hai già un problema col debito che non è brutto come dicono, anche lì ci marciano sopra, noi dobbiamo fare altro debito, magari alzare le tasse dopo che sia stato il freddo, questi sono impantanati, non vanno avanti né di un metro né avanti né indietro e politicamente comincia a scricchiolare dopo. Intanto guarda, dico anche due cose sulla mappa, intanto stiamo utilizzando un sistema per, abbiamo già migliorato le prestazioni del 30%, ma stiamo lavorando per migliorare del 60% perché ovviamente ci vogliamo infilare più cose come il famoso pop-up dove clicchi sull'unità e ti viene tutto l'organigramma, il comandante, il logo e queste cose qui e poi usiamo una tecnica dove, tipo a questo livello di zoom, si vedono le divisioni e le brigate, ma se uno zooma di più praticamente si arriva fino a livelli più bassi, quindi si possono vedere i battaglioni e i reggimenti sbucano fuori. In più, durante agosto, approfitteremo di agosto perché verosimilmente i russi non dovrebbero fare un'offensiva durante agosto né gli ucraini, sfrutteremo la cosa per praticamente lavorare alla mappa e al sito che avrà ovviamente tutta la grafica personalizzata, stiamo lavorando, fra l'altro vorrei ringraziare la community perché oltre 40 persone in questo momento si sono messe a lavorare con noi, ci sono una ventina di articolisti, altri canali YouTube, ma soprattutto tantissimi del mondo del tech, dell'IT, ci sono una decina di persone che lavorano al sito, al database, alla mappa, veramente tantissime persone, anche di altissimo profilo perché ci sono delle persone, non faccio nomi, ma che lavorano anche a grossi grossi portali tipo Trivago, cioè che hanno 50 milioni di accessi e che ci hanno detto tu dammi un mese e io ti ottimizzo il database e la mappa anche del 60%, quindi quello che stiamo facendo è ancora a livello prototipale, poi verrà utilizzato anche per portare altri conflitti e il sito avrà la mappa integrata anche del conflitto in Nagorno-Karabakh, in Siria e in Yemen, quindi continueremo a occuparci, probabilmente ci occuperemo anche di Taiwan, io probabilmente quando questa storia andrà meno tornerò più a occuparmi di seconda guerra mondiale col canale, però terremo sempre un occhio aperto, una rubrica su queste cose e scriveranno anche sul portale ospiti che sono stati qui, il professor Breccia, Giannulli e tanti altri, quindi sta diventando diciamo qualcosa di più grosso rispetto a me, io continuerò a curare il canale, continuerò a fare le cose mie, poi ci sarà Parabello Misteri che è più un discorso corale con tante facce note che sono state qui nel canale, che pubblicano libri, che scrivono articoli di geopolitica come Giannulli, quindi probabilmente avvieremo anche un discorso di far diventare il portale una rivista scientifica, quindi di avere anche ospiti internazionali e di avere un livello degli articoli con le note a piedi pagina, tutto riportato in maniera molto scientifica, è un processo che ci vogliono anni, però che siamo abbastanza interessati a intraprendere diciamo, quindi le cose si muovono e tutto dipende dalla community, ovviamente non ci occuperemo di politica, io questo l'ho detto non ci occuperemo mai di politica, rimarrà sempre un discorso culturale, militare, storico e quindi io ringrazio tanto la community perché oltre a questi 40 più o meno ogni giorno arrivano mail di persone che si propongono, o un medico che si occupa di sindrome post traumatica con cui stiamo lavorando a fare una puntata per parlare anche di queste cose, faremo sia una ricostruzione storica, seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale Vietnam, sia un'analisi di quello che è possibile diciamo speculare sulla guerra in Ucraina perché ci saranno anche un sacco di persone che soffriranno di queste sindrome da una parte e dall'altra, mi sono arrivati delle mail dalla parte dell'ESA, dell'ente spaziale, di ingegneri e altri che vogliono venire a parlare di rete satellitare e cose del genere, quindi le cose sta prendendo letteralmente un'anima sua diciamo, ultimamente con te, con Michele e con altri economisti stiamo anche sfociando sulla parte economica perché comunque la guerra è una materia interdisciplinare che va letteralmente a colpire e interessare qualsiasi cosa, economia globale, economia di scala, micro e macroeconomia, l'abbiamo vista economia finanziaria, monetaria, ormai la guerra si combatte a livello ibrido a tutti i livelli, non solo su Inter, non solo sul campo di battaglia, c'è anche questa guerra economica che in questa guerra è diventata sempre più palese e quindi è interessante avere persone esperte per potersi occupare anche di questi aspetti. Ma poi tra l'altro questa a livello anche di storia degli armamenti è la guerra che lancia definitivamente i droni, come arma nuova, perché è una guerra abbastanza grande per poter per dire che effettivamente è nata l'epoca dei droni e credo che anche a livello di impiego delle unità complichi parecchio le cose, quindi tra l'altro in borsa però non stanno andando bene, anche questa è una cosa interessante da dire, non stanno andando bene i titoli della difesa, Boeing è stata un disastro ma perché ha problemi sulle consegne degli aerei civili e sai perché questo succede? Perché anche in borsa non credono che arriverà questa mega spesa pubblica a in armamenti, soprattutto in Europa. E mi riallaccio a una domanda che ho visto in chat, un telespettatore scrive al governo interessa più che vinca l'Ucraina piuttosto che il debito. No, al governo interessa uguale e siccome soprattutto in Europa ormai è il continente degli stati sociali, quindi assistenza sanitaria, pensione e quant'altro, noi potremmo avere problemi proprio di debito, cioè non di debito ma di capacità di indebitarci, poi ripeto l'Ucraina sul piano del debito sono 7 miliardi l'anno, cioè voglio dire costa meno del reddito di cittadinanza italiano, giusto per non farti politica sul canale, adesso vedrai poi cosa arriva. Il problema è che se tu invece ti rafforzi perché domani potrebbe capitare a te, cioè domani potrebbe attaccare la Polonia piuttosto che la Lituania eccetera, e lì io ho visto che una portaerei tipo americana costava tempo fa solo costruirla un miliardo, allora con reddito di cittadinanza fai 9 portaerei, ma tempo fa, adesso probabilmente costa di più. Quindi gli F-35 sono un singolo, costa uno sproposito, costa più di un aereo di linea quasi, credo che arrivi quasi a 100 milioni di dollari un F-35, allora capisci che, sai, sono soldi. Quindi anche questa capacità dell'Occidente di riarmarsi è abbastanza in discussione, perché ci sono vecchie tematiche, ha scritto in settimana un bellissimo articolo Federico Rampini, dice guardate che la Germania è quella messa a peggio col gas, ma il sottosuolo tedesco, secondo Rampini che cita fonti, ci sono almeno 800 miliardi di metri cubi di gas, perché non lo tirano fuori? Tanto perché non ci sono i pozzi, ma poi per scelta ecologica. Ma anche i verdi, hai visto che anche i verdi ora stanno cambiando. Esatto, allora, infatti se puoi far vedere l'ultima slide, perché le altre non facciamo in tempo, ma tanto riguardavano il grano, non che non conti il grano, ma per noi è più critica quella del gas TTF, che spiega anche lì molte cose, perché anche sul fatto la Germania, la dipendenza dal gas, ci sono troppi luoghi comuni, che secondo me è un po' il caso di smitizzare, no? Noi dobbiamo avere più cura dell'ambiente, quindi abbiamo preso un certo tipo di politica, la guerra ci ha preso un po' tutti impreparati, no? Adesso eccolo qua che arriva, proprio l'ultima, l'ultima. Questo è il famoso gas europeo, il TTF olandese, non è il gas americano. Allora, che cosa ci dice questo grafico? Ci dice che non era poi così stupida l'idea tedesca di importare così tanto gas, no? Vedi che il gas costava niente, cioè per noi non era un problema, anzi veniva considerato nella cosiddetta, nella... adesso non mi viene il termine, scusa, è tardi ed è una settimana che leggo bilancio, nella... non mi viene il nome, comunque insomma, nella classificazione delle fonti pulite, il gas veniva considerato la più sporca delle fonti pulite, no? Quasi un paradosso, no? E guarda dove è andato, il gas è praticamente... ha fatto quasi più... non più mille per cento, ma insomma ha fatto... quindi quella che prima era una fonte... quelli sono i prezzi di due ore fa, eh Mirko? Quella lì è proprio una... quindi non sono prezzi vecchi. E quindi vedi che la scelta tedesca, al di là poi degli egoismi tedeschi e della politica assurda che ha fatto la Merkel, che ha distrutto una parte del consenso dei paesi non tedeschi nei confronti dell'Europa, però non è una scelta stupida. Il problema è che il mondo ci è cambiato in faccia. E allora, vedendo che... per trarre un po' le fila di questa puntata, allora... Guarda, vediamo se riusciamo a commentare anche le ultime, così le utilizziamo tutte, tanto a T10 minuti ci siamo, no? Sì, no, si parla tanto del grano ucraino, ma il primo esportatore mondiale di grano è la Russia. E quindi anche qui, eh... certo, il grano ucraino ha un'importanza decisiva, però la differenza in questo la fanno i russi. Quindi sulla questione del grano c'è anche una battaglia politica, perché? Perché Putin sta cercando di costruire il polo di quelli che si ribellano alla prepotenza americana, no? Secondo la visione russa. E lì dentro ci sono i paesi, molti paesi del Mediterraneo e comunque paesi che hanno problemi di fame. Allora, i russi vogliono far vedere che fanno passare il grano ucraino. L'Ucraina dice che se aumentano la fame nel mondo è colpa della Russia, ma è anche vero, eh? Ma è anche vero, cioè è una che stanno raccontando una balla. È solo il solito gioco di ingigantire le cose da un punto di vista propagandistico. Dopodiché però vedi che se tutti gli altri paesi aumentassero la produttività, se gli Stati Uniti piantassero più grano, se il Canada piantasse più grano, eccetera, vedi che, non dico che la produzione ucraina potrebbe essere rimpiazzata, ma potrebbe diventare meno importante. Quindi anche qui questa è una situazione di breve periodo, ma nel lungo termine le cose possono cambiare. Poi ce n'era un'altra di slide che non ricordo. Ah, ecco, il paese, il miglior cliente della Russia è la Cina e poi l'Olanda. Allora, questa storia dei cinesi che sono andati ad aiutare i russi, ma guardate che la partnership commerciale tra Russia e Cina era già forte fin da prima. Quindi adesso gli altri paesi... Scusa, ma questo mi fa suonare ancora peggio il discorso che fece un tipo in tv russo che disse, ma perché non nuclearizziamo Amsterdam? È il secondo più grosso partner commerciale che hai. Non ho parole. Per chi si ricorda la puntata. Non solo, ma guardate anche la Turchia che è al quinto posto, vedete, perché poi Erdogan ha tutta questa facilità. Tra l'altro poi sulla storia del grano con la Turchia non esiste un accordo diretto tra Russia e Ucraina. Sono due accordi separati. È anche interessante vedere che i due stati europei che sono più interrelativi sono Germania e Italia. Guarda caso quelli più resti ad aiutare l'Ucraina. Secondo te perché? Vedi che... Se cugnano nole. Sì, ma vedi, comunque dai dati che abbiamo fatto vedere oggi, secondo me cadono anche altri luoghi comuni. Per esempio il fatto che la Russia erano decenni che preparava la guerra. No, avrebbe speso di più anche nelle forze convenzionali, secondo me. Quindi questo rafforza la mia idea dell'azione imposta da Putin contro anche il parere dell'esercito vista la mancanza di preparazione. O gli hanno detto che erano preparatissimi, come succede sempre con i dittatori, più o meno. Oppure gli hanno detto che non siamo preparati e lui ha detto che se lo dite ancora vi destituisco. perché poi in queste cose... Ma secondo me è successo qualcosa negli ultimi anni, ma proprio deve essere un qualcosa che è maturato penso negli ultimi 12-18 mesi. Perché se tu guardi quei grafici, quei numeri, nella narrazione che questo qui... Cioè anche il famoso fatti del 2014, sì ok, ma probabilmente... Infatti dell'Ucraina, con quello che è successo nel Donbass, benissimo, i famosi accordi di Minsk che non sono stati rispettati. Io non sono un geopolitico, non voglio far figure. Io ti dico che però se da dopo il 2014 mi girano le scatole e voglio fare una guerra contro l'Ucraina, costi qualche costi, spendo di più per armamenti secondo me. E i mezzi c'erano, perché la Russia ha un avanzo commerciale. Quindi se io dovessi giudicare dai dati economici che, attenzione, non spiegano tutto, io penso che sia successo qualcosa su un orizzonte temporale non più lungo di 18 mesi. Cosa non lo so. E su questa direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire con i dati, poi i pdf, i documenti sono tutti in descrizione, quindi potete spulciarveli e andare a informarvi ancora di più su questi rapporti di forza ed economici. Sicuramente qualcuno è stato stupito, per esempio, vedere che la Francia ha più esportazione di grano dell'Ucraina, mentre sembrava che l'Ucraina era il granaio del mondo, e invece abbiamo visto che non è così, sicuramente fa capire che c'è anche un certo livello propagandistico nel far vedere certe cose. Quindi uno si può fare un'idea di quali sono i dati reali e come vengono venduti. Sì, assolutamente. Ti posso dire che queste confusioni per uno che fa l'analista finanziario sono normali, perché da noi o 2 più 2 fa 5, oppure 2 più 2 fa 4, ma poi arrivano 20 che ti dicono che fa 5. Quindi oggi spieghiamo un po' ai tuoi telespettatori che la realtà dei numeri è un po' diversa dalla propaganda, però magari poi chi avrà la voglia, la pazienza di rivedersi la puntata o di leggere il materiale ci penserà sopra e vedrà che anche certe tesi precostituite lui ha fatto apposta a farsi attaccare, quell'altro doveva scappare, invece gli hanno detto di stare lì. Io non so cosa è successo, ma secondo me c'è stato un deterioro, soprattutto da come si è comportata la Russia c'è stato un deterioramento negli ultimi 12-18 mesi. Va bene, allora sono le 20 e 20, io ringrazio tantissimo Massimo Intropido per queste chiarificazioni che sono fondamentali anche perché, avete visto, abbiamo introdotto il discorso economico e con Marco Busti parleremo più in specifico dei semiconduttori per un discorso militare per capire se veramente i russi riescono a produrre o non produrre certe cose e poi lunedì tornerà a farsi, quindi torneremo più a un discorso geopolitico, poi tornerà a breccia e poi, signori, magari anch'io mi prendo un po' di pausa, quindi magari durante agosto rallenteremo, anche perché abbiamo visto che a livello bellico non sta succedendo molto, quindi è un buon periodo per fare approfondimenti, diciamo, delle cose che sono collegate alla guerra, come l'economia, come la crisi dei semiconduttori e altre cose. Quindi ancora grazie a Massimo Intropido, buona cena. Grazie a te e grazie ai tuoi telespettatori. Buona cena a tutti voi e alla prossima su Parabello. Grazie.